Il bus si era schiantato, tutti erano stati rapiti e portati dentro la Rainbow Friends dove erano dovuti scappare da Blue e da Green Tutto questo nel video di ieri perché avevamo reattato a come sarebbero i Rainbow Friends se dovessero essere affrontati nella vita reale Oggi guarderemo la terza notte con Orange e la quarta notte con Purple e scopriremo come sarebbe affrontare anche loro due Come tutti ben sapete nel gioco dei Rainbow Friends ci sono quattro notti e ogni notte deve essere superata senza morire ed eccolo qua c'è Blue che ci segue Gli unici modi per scappare sono nascondersi in una scatola o correre veramente molto 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 velocemente ma intanto vediamo come viene affrontato Orange Orange non si sa se è un dinosauro, una lucertola, un gecko Comunque sappiamo che è un rettile Qualcuno addirittura dice che è un dinosauro e è sempre molto molto affamato Infatti vedete L'hanno ucciso con una spadata E anche Green è stato ucciso ma non è morto definitivamente Orange Avete visto la sua scia super luminosa dove lui corre e lì c'è un altro Green Oddio Ne è stato ucciso uno ma ce ne sono altri Oh mio Dio Comunque Orange potrebbe anche essere un dinosauro In molti hanno detto Sei potrebbe essere un dinosaurino, un velociraptor o qualcosa del genere In effetti potrebbe davvero essere Queste sono le lucettine E lì c'era purple nella vent Queste sono quelle che vanno messe Oh all'interno qua Bisogna riempirlo con tutti i colori Ogni boccetta con un colore Non so come chiamarle, non mi viene il nome Però bisogna riempire di colori tutto quanto il pannello E una volta riempito si è superato il livello Beh io posso dirvi che il quarto livello è molto difficile Ma in realtà sono tutti molto difficili Il quarto è più difficile semplicemente Perché ci sono molti più mostri da evitare Ci sono tutti Rainbow Friends Quindi è quello dove di solito si muore di più Oh guardate la scia Quella è la scia di Orange Era super luminosissima Ma ce la farà questa bellissima famiglia A uscire dalla Rainbow Friends e a salvarsi Nella vita reale dai Rainbow Friends Non lo so Bisogna vedere Adesso sono accerchiati E ce li hanno tutti quanti davanti Non hanno intenzione di farli passare Correte Scappate Questa è l'ultima Ultimissima batteria da mettere Oh forse sono liberi Forse ce l'hanno fatta Scrivete tutti nei commenti Buona fortuna Sperando che quella famiglia si salvi Da tutti Rainbow Friends Ma ci sono ancora un sacco di video Della vita reale Da vedere insieme Tantissime creazioni Che potete realizzare A casa vostra Guardate questo ad esempio Prendete una Una pallina Un palloncino anche E lo riempite di Acqua e palline Sguisciose Poi ci disegnate sopra Alla faccia di blu E ecco un altro bellissimo Antistress Da poter creare A casa vostra Nella vita reale Con le vostre mani Ma un'altra creazione Che avevamo visto Nel video di ieri E vi avevo promesso Vi avrei fatto vedere Come si realizzava oggi È quella della lanterna Quella è la più bella Secondo me Perché con la torcia Potete vedere Tutti i Rainbow Friends Sul foglio Prima di tutto Ha preso Questo cartoncino nero E dopo averci Fatto tutte queste linee Ha tagliato i vari angolini Ai lati E adesso Su un foglio trasparente Disegna i Rainbow Friends Dopo averli disegnati tutti E colorati tutti Serviranno dei pennarelli Apposta per disegnare Sulla plastica trasparente Li mette su Il cartoncino nero Che poi incollerà Sopra la plastichina trasparente Ecco come ho fatto A realizzare quell'opera Dopo cartoncino nero E plastichina trasparente Tocca al foglio bianco Dove ha disegnato La torcia E mettendola Tra il foglio Nero E la plastichina Bianca Sembrerà Che la torcia Illumini davvero E invece Solo l'effetto bianco Tra il cartoncino nero E la plastica Geniale Veramente Forse questo È il più bello Che abbiamo mai visto La prossima opera Vuole che si ritaglino Quattro cartoncini quadrati E su ognuno di esso Si disegnino I quattro Rainbow Friends Oppure al posto di Orange Ci potete disegnare Red Che comunque è un Rainbow Friends Alla fine Tagliate per dritto due E per lungo Gli altri due E poi Li piegate In tre parti Guardate Guardate In realtà Piegate in Guarda Piega in due E poi Piega I due latini Verso L'interno È difficile Questo è difficile Bisogna stare attenti A tutti i passaggi Se si vuole creare E fare Veramente bene Servirà della colla Da mettere solo Nel quadrato Centrale E poi Dovrete incollare Centro con centro E lo stesso Con le altre due parti Una volta che tutto È incollato Non vi resterà Che unire Anche Le due Che adesso sono separate Ma tra pochissimo Saranno tutte Attaccate insieme Ed ecco qua Come si fa a fare Un Rainbow Friends Su un foglio di carta Ma a quattro Nel video di ieri Sarà visto quello a tre Ma passiamo a un'opera Che io adoro E non vedo l'ora di vedere Come è stata realizzata Nella vita vera Un blue Anti stress Prima di tutto Viene preso Un pezzo di carta Colorato Come volete voi Potete fare il blue Che vi piace di più E una volta Che è stato ritagliato Lo mettete su un altro Foglio di carta E ricalcate La sua forma Per poi Andarla a ritagliare Adesso avrete Un dietro E un davanti Scocciate Tutto Quanto insieme Vedete Mettendoli Separati Su una velina E ora Dovete ritagliarli Praticamente Avrete creato Una cosa Tipo plastificata E non vi resterà Che unirli Insieme Appiccicandoli Tra di loro Ora dentro Sono fatti di carta Ma fuori Sono super plastificati Riempire di cotone Tutto Quanto Il nostro bellissimo Amico blu O forse nemico Non lo so Perché alla fine Ci vuole mangiare Non è che sia poi Così tanto nostro amico E una volta messo Il cotone dentro Potete chiudere L'anti stress Potete metterci il cotone O qualsiasi altra cosa Vogliate Anche qualcosa Che fa rumore Dei sassolini Il riso Insomma Tutto quello che volete E adesso avete un bellissimo Antistress Che fa rumore E vi fa andare via Tutto Quanto Lo stress Ma un'altra creazione Che volevo farvi vedere Sono i Rainbow Friends Nella vita reale Fatti a mano Se i Rainbow Friends Fossero super realistici Invece che Come sono nel gioco Come potrebbero essere E questa È la realizzazione Un gigamostro blu Una vera e propria Lucertolina orange Un mostro insettoide Che sarebbe una vera mosca Praticamente Guardate Questo è purple Da essere cartoon A essere ovviamente Realistico E super spaventoso Cartoon Eccolo qui E spaventoso Eccolo qui Un vero mostro Super realistico Guardate red Moscoso Schifoso Ecco come sarebbe red Se fosse Veramente vivo Nella vita reale Ovviamente Voglio vedere anche green Che è uno dei preferiti Quasi di tutti Ha soppiantato Il green cartoon Eccolo Sembra quasi buono E dolce Invece quello realistico È un vero mostro Orripilante Uno zombie Praticamente Ma anche orange Non ci scherza Guardate È un vero e proprio Dinosaurino Qui è cartoon E sembra simpatico Anche lui Qua invece È un vero e proprio Veloci raptor Pazzo Spaventoso Vero Ma anche blu Super muscoloso Gigantesco Una specie di Uomo delle caverne Direi Da essere super Cicciottoso Gonfioso Che sembra un palloncino A essere un mega goblin Un troll È gigante È enorme Guardate che maniche ha Questi Rainbow Friends Nella vita reale Sono veramente assurdi Ma cosa manca Ancora Nella vita reale Con i Rainbow Friends Ebbene sì Qualcosa da mangiare Come sarebbero I Rainbow Friends Se potessimo assaggiarli E mangiucchiarli Oh Li guarderemo Tutti quanti Tutti i Rainbow Friends Versione Cibo Da assaggiare Guardatelo La volta scorsa Avevamo visto Altri Rainbow Friends Da mangiare Ma ho trovato Un nuovo video Diverso Con dei Rainbow Friends Diversi Intanto abbiamo visto blu E ovviamente Adesso vedremo green Per chi non la conoscesse Questa è l'arte Dei pancakes Fatemi sapere Se voi avete mai Fatto a casa vostra Dei pancakes Oppure no Io Sinceramente Non li ho mai provati a fare Infatti Dopo tutti questi video Dove ho visto I Rainbow Friends Pancakes Poppy Playtime Pancakes Mi è venuta una voglia Matta Di provare Anche io A farmi i miei pancakes Con i personaggi Da mangiare Guardate quanto è carino Green è stupendo Ma il mio preferito È orange Infatti Non vedo l'ora Di vedere orange Completato Tutto pronto E buono Da mangiare Arancioso Oh si Orange e l'arancio Sono perfetti Da unire Guardate quanto è carino È meraviglioso Voglio mangiarlo Voglio mangiarlo Però Adesso C'è il red Red è perfetto Per qualcosa tipo Fragole Red delle fragole Perfettissimo Se voi avete Delle idee migliori Delle mie Su cosa unire Ai Rainbow Friends Come sapori e gusti Scrivetemelo nei commenti Guardate Red versione Red versione Scienziato pazzo Con il suo camice bianco Che ovviamente Fa parte di lui Al cento per cento Buono anche red Lo mangerei subito Mi è venuta una fame Tra l'altro Non ho ancora mangiato Quindi Ma questa volta Rispetto alla volta scorsa Abbiamo anche dei nuovi personaggi Infatti Nello scorso video Non avevamo ancora visto I nuovi personaggi Avevamo visto solo quelli standard Infatti Questa volta C'è anche Pink Che potrebbe essere Uno dei nuovi personaggi Dei Rainbow Friends E c'è anche Purple Fuori dalla vent Lunghissimo Super disarticolato Cuoci 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 Fai vedere come sei bello cotto È difficile da staccare Perché ha un sacco di parti lunghissime Ma che carino Oh mio dio Purple cotto È ancora più bello Che disegnato Ed eccoli qua Tutti belli pronti Da assaggiare E smangiocchiare Non vedo l'ora di provarli tutti Ma a proposito di Rainbow Friends Nella vita reale Come si potrebbero fare I suoni dei vari Rainbow Friends Nella vita reale? Questi sono tutti i suoni di Blue Ecco come potrebbero essere stati realizzati E ora quelli di Green Spaventoso vero? E adesso abbiamo Purple Quando si sente questo suono Purple si sta muovendo in un'altra vent E poi Orange Questa canzone la riconosco Sì Ah Ah e gli oggetti da collezionare anche Da mettere A posto C'è anche la box Fatemi sentire Fatemi sentire la box Tutti i suoni dell'ambiente Non parlo perché non voglio Ma chi è? Ma non si può neanche cacare in santa pace? Mi serviva il suono per un video Ora scendo e ti faccio vedere io Voi fatemi sapere nei commenti Qual è stato il vostro video preferito di oggi Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci vedremo nel prossimo Ciao Ciao